Si è svolto questa mattina in Sala Consiglio a Palazzo Belvù un incontro con gli alunni delle Quinte Elementari organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale insieme ai Lions Club, dove sono stati donati il tricolore e una coppia della Costituzione italiana. Sì, assolutamente. Come Presidenza del Consiglio in questi anni abbiamo organizzato molti incontri con le scuole di ogni grado, dall'alimentare alle superiori alle medie. Penso che oggi sia importante festeggiare l'Unità d'Italia, soffermarsi e riflettere sulla storia della nostra nazione e sui valori collegati ad essa, per esempio a partire dal senso di appartenenza, dall'orgoglio di essere italiani e da nord a sud passando per il centro e dalle regole di convivenza civile. Questa è oggi un'iniziativa portata avanti da Lions che noi sosteniamo con forza perché consegnare ai ragazzi delle scuole elementari sia la nostra bandiera, il tricolore, la Costituzione italiana sia un messaggio molto chiaro, un segno tangibile del legame con la patria e nello stesso tempo un ponte tra il passato, il presente e il futuro. Tra l'altro oggi è anche la festa del papà. Assolutamente, grazie a tutti i papà che sono sia nella nostra città, ma visto che oggi festeggiamo l'Unità d'Italia, a tutti i papà italiani.